Le dimissioni del professor Ugo Villani dal suo incarico di assessore alla legalità del comune di Barretta hanno aperto un'inevitabile discussione sia sulle motivazioni che sulle conseguenze che tali dimissioni determineranno. La decisione di Villani non è infatti un fulmine a ciel sereno. Da tempo si era conoscenza del malessere che il docente universitario stava soffrendo a causa di polemiche e incomprensioni nonché di perplessità sull'opportunità di alcuni atti amministrativi. Le motivazioni di carattere personale, cioè l'impossibilità di svolgere contemporaneamente l'attività di assessore e quella professionale, anche se reali non sono quindi le uniche. Villani era il fiore all'occhiello del sindaco che lo aveva annunciato quale assessore già durante la campagna elettorale come garante della trasparenza e della ferma volontà di voltare pagina rispetto alle precedenti amministrazioni. Le sue dimissioni aprono pertanto una falla che non sarà facile richiudere ed è per questo che Cascella tenterà in ogni modo di farlo recedere. Il sindaco rientrerà in serata. Nel frattempo in una nota esprime solidarietà a Villani per le difficoltà a cui ha dovuto far fronte, costate fatica, ma anche incomprensioni e amarezze e lo invita a continuare la condivisione dell'impegnativo cammino verso un cambiamento profondo per lo sviluppo economico e sociale e il progresso civile della città. Non sappiamo cosa deciderà Villani. Alcune voci del palazzo si dicono fiduciose di un suo ripensamento, altre lo escludono. Qualora le dimissioni dovessero essere confermate, si aprirebbero diversi scenari. Come dicevamo Villani era un assessore tecnico per dirla terra terra in quota sindaco. Cascella potrebbe quindi o non riaffidare le deleghe mantenendole ad interim senza nominare un nuovo assessore, o nominare un altro assessore tecnico, cosa che appare improbabile, o nominare un assessore politico, espressione di uno dei partiti PD in primis, sottodimensionati in giunta e che da tempo hanno sollevato la questione di una più equa presenza nell'esecutivo. Non a caso sorprende l'assoluto silenzio dei partiti di maggioranza, benché siano trascorsi ben quattro giorni dal momento in cui le dimissioni sono state protocollate. Solo il consigliere di opposizione Damiani, in una nota a nome del PDL, sottolinea come sia venuto meno l'esponente di punta il nome eccellente usato come specchietto per le allodole in campagna elettorale, il che sarebbe sintomatico del clima politico che si respira all'interno della coalizione. Da parte nostra ribadiamo piena stima al professor Villani, anche se la sensazione è che in molte occasioni sia stata una sorta di retravicello e forte. Una sola critica ci sentiamo di dovergli rivolgere il fatto che non abbia reso pubblici né la sua dichiarazione dei redditi né lo stato patrimoniale, una contraddizione grave per chi li copre la carica di assessore alla trasparenza.